ragazzi quando mi trovo sti messaggi qui oppure se sei un vero uomo viene a manifestare mi rompete le scatole volete manifestare andate a manifestare il mio principio di manifestazione si è fermato agli anni 70 80 quando stavo per nascere perché sono nato nell'83 le manifestazioni odierne non servono a un caccio e i politici sono praticamente in linea con il mio pensiero anche perché ci vado a cena ci sentiamo al telefono e quindi so come funziona io in questi tre mesi dove sono sparito ho preso tramite nuove conoscenze dieci cantieri da fare in lombardia non tanto grossi una milionata di lavoro però intanto l'abbiamo preso abbiamo messo un piede in lombardia abbiamo da fare un'operazione a susa che stiamo adesso iniziando a trattare dove una villa del settecento un dici alloggi in più insieme agli amici dell'fp design che poi vi presenterò abbiamo preso un'altra sfilza di cantieri molto importante mi spiegate che cosa devo venire a manifestare a fare o forse è opportuno che un cristo usi la propria testa e usi le proprie conoscenze per fare qualcosa di positivo io non posso logorarmi il cervello dietro al governo perché a me del governo non me ne frega un cazzo in principio a casa mia il governo si chiama polichetti se polichetti lavora riesce a portare il pane a casa si mangia altrimenti non si mangia le manifestazioni pacifiche non servono lo dissi la prima volta che sono entrato nella chat di un gruppo che manifesta dove dissi bisogna andare a fare la guerra non la pace mi hanno subito attaccato da lì ho capito che io non andavo bene per quel gruppo perché abbiamo dei pensieri diversi dai miei punti di vista manifesterete altri dieci anni e i crediti non se li prenderanno mai punto questo è il mio pensiero